Con la vittoria di ieri contro il Belgio l'Italia si è qualificata per i quarti finale di Nations League ora basta pareggiare con la Francia per arrivare matematicamente al primo posto cosa molto importante perché poi ci metterebbe in testa di serie per i sorteggi, per le qualificazioni dei mondiali ma adesso dobbiamo analizzare un pochino di cose perché abbiamo visto un'Italia comunque che non ha giocato al meglio ma è cambiato totalmente rispetto alle ultime esibizioni europei e quindi dei ragionamenti vanno fatti perché comunque ho fatto una sorta di paragoni di rose e ho notato delle differenze che hanno fatto poi la differenza scusate questo brutto modo di dire volevo però ricordarvi che stasera dall'ora 21 sul canale sono in live con Niccolò Lattuada giornalista, presentatore, tifoso mianista e analizzeremo ovviamente tante cose sia al punto di vista del Milan che di calcio in generale quindi vi ricordo sempre iscrivetevi al gruppo Telegram perché poi magari se mi iscrivete in privato posso mandarvi anche il link della live in modo che potete anche magari dialogare con me, con Niccolò insomma vediamo un pochino anche perché adesso l'iniziativa che vorrei fare è quella di stabilire una live a settimana fissa penso il giovedì dedicata proprio a voi quindi proprio una live fatta ad hoc per farvi intervenire stasera magari vediamo un pochino come si mettono le cose devo ancora un po' settare un format diciamo così ma sappiate che la mia intenzione insieme anche a quella dei mod è di fare questa live ogni giovedì dove daremo spazio a voi quindi gruppo Telegram mi iscrivete in privato vi mando il link e potete tranquillamente intervenire in live insieme al vostro davor di fiducia ma torniamo a noi contro il Belgio l'Italia non è stata dominante abbiamo visto dei momenti dove ha governato il gioco degli altri momenti un po' di meno abbiamo visto un reteghi un po' in ombre rispetto alle ultime uscite però voglio dire ragazzi ci sta anche perché bisognava comunque dosare le forze tra la partita contro il Belgio appunto e quella contro la Francia ma vediamo appunto un'Italia completamente cambiata rispetto a quella di Europeo al di là del fatto che Spalletti insomma ha riconosciuto i suoi errori e comunque ha puntato a fare un gruppo a creare un gruppo quasi come se fosse un club tant'è che Locatelli è rientrato perché poi Ricci si è fatto male altrimenti il convocato sarebbe stato Ricci Ricci in una fase un po' calante anche perché il Torino è in fase calante quindi insomma giustamente poi si è fatto male Ricci e conseguentemente Spalletti ha convocato Locatelli ma mi sono chiesto appunto questa cosa da cosa proviene, da cosa può provenire questa differenza proprio di mentalità di gioco, di approccio e allora ho catalogato la rosa tranne portieri o quantomeno il nucleo fondamentale della rosa in base agli allenatori e la rosa appunto recita questo Reteghi che ha Gasperini Ken e Comuzzo che hanno Palladino Bastoni frattesi di Marco Barella hanno Enzaghi Cambiaso, Locatelli, Gatti hanno Motta Rovella a Baroni Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori, Conte Tolto Tonali che sta Newcastle con O'Ou Udogi che sta al Tottenham con Postecoglu O'Coli che sta all'Estel con Cupere Calafiori che sta all'Arsenal con Arteta ovviamente ho tralasciato Pisilli, Savona e Maldini perché comunque sono new entry ho messo anche Calafiori che sarebbe stato nel gruppo ma comunque l'ho voluto mettere in questo in questa sorta di elenco e io ho notato questa cosa gli allenatori maggiormente coinvolti Gasperini, Palladino, Inzaghi, Motta, Baroni e Conte allenatori scusate che insegnano calcio che insegnano i movimenti in campo che sanno agire di psicologia Conte un po' più di garra ma gli altri molto di psicologia giocano in squadre che giocano a pallone con ideologie di gioco ben definite e quindi tutto questo si va a tradurre sul campo in nazionale e allora anche elementi come un O'Coli che gioca e non gioca all'Estel Comudogi che comunque sta all'Estel Rotonali idem, Calafiori idem in più l'Ignuente di Pisilli, Savona e Daniel Maldini magari possono avere un aiuto ulteriore appunto perché hanno un gruppo fondamentale che sa governare sa giocare a calcio giocano col pallone un altro schermo che c'ho qui davanti andiamo a vedere la rosa dell'Europeo quindi risaliamo a pochi mesi fa ovviamente ho tralasciato i giocatori i portieri comunque Meret, Vicario e Donnarumma però comunque sono giocatori non di movimento e vabbè c'era Scamacca con Gasperini in questo caso già mi viene da dire Scamacca non è mai stato un golador e se non lo è diventato con Gasperini che viveva insomma adesso quando si riprenderà dall'infortunio al ginocchio vedremo come si riprende ma non è mai stato un super fenomeno Calafiori, ok Le Teghi Meral Genoa quindi una squadra in grande difficoltà e Le Teghi al Genoa giocava praticamente da solo davanti su altri quarticampo a fare sportellate quindi ha beneficiato del lavoro di Gasperini in più Bassoni, Darmiani, Marco e Barella va bene ma loro sono rientrati nel calderone perché giustamente non potevano trascinare loro una squadra Zaccagni che ha vissuto un anno terribile a Lazio a livello di allenatori con Sarri Martuscello e Tudor Cambiaso Gatti Fagioli e Chiesa qua parliamo di Chiesa che Dio ce ne salve i liberi che adesso sta facendo tribuna a Liverpool e che già l'anno scorso aveva mostrato dei segni di declino clamorosi in più allenatori Allegri e Montero Di Lorenzo che ha vissuto un anno sorribile di San Napoli con Garzia Mazzarri e Calzona in più Quartetto della Roma Mancini Cristante Pellegrini e Ciarawi annata in questo caso negativa con il duo Murigno e dopo De Rossi Bellanova e Buongiorno allenati da Juric e Buongiorno non era questo che lui ha fatto si dimostrava già un ottimo difensore ma il salto grosso immediato l'ha avuto con Conte ora a Napoli in più fu l'uncio del Verona allenato da Baroni ma era al Verona una squadra che si è salvata per il rotto della cuffia dopo c'era Giorginio va bene però Giorginio all'Arsenal appartiene un po' al vecchio corso e ormai insomma non corre più ha il suo alla sua velocità impostata 0.5 ma vediamo qui notiamo che differenze a livello di insegnamento di calcio ci sono qua stiamo parlando adesso di un gruppo di 4 allenatori allenanti in Serie A scusate 6 allenatori allenanti in Serie A Gasperini Palladino del Nouvelle Vague che sta facendo ottime cose a Firenze Inzaghi Motta Baroni versione naziale che sta dimostrando il suo potenziale e Conte qui abbiamo allenatori o inesperti o anni orribili come Giardino come Salimartuscello Tudor come Allegri Montero Garziano Mazzari Calzona Murino De Rossi e Juric capiamo la differenza capiamo che la linea direttrice del calcio italiano deve rivolgersi a questi allenatori e dato che Gasperini soprattutto non è più giovanissimo ma anche Baroni che comunque ha 61 anni non è più uno di primo pelo vogliamo capire che alle squadre così devono essere messi allenatori giovani rampanti ma con tante idee che sappiano insegnare calcio non come Allegri o Garzia o Mazzarri o Calzona o Murigno che onestamente dopo il triplete interiste qualche anno all'Ala Madrid è da anni che non è più Special One o come Juric questa è la strada a seguire e se utilizziamo i giocatori scusate gli allenatori come Palladino che ti stanno rivitalizzando Moise Ken come Gasperini che stanno utilizzando al massimo le potenzialità di Leteghi o come Motta che ha rivitalizzato Locatelli e sta dando un ulteriore busta Cambiaso o Baroni che ha trasformato Rovella o Conte che ha totalmente cambiato la mente di Lorenzo sta sviluppando Buongiorno più i vari tonali Udogi o Coli e Calafiori penso che il messaggio sia chiaro ci vogliono allenatori in Serie A che insegnino calcio basta gestori basta allenatori della mentalità provinciale o che godono di crediti passati vedasi Murigno ripeto in primis voglio sapere la vostra impressione ma secondo me il cambiamento dell'Italia a livello anche di mentalità di gioco è dato anche da questi cambiamenti perché in nazionale tu porti le mentalità che assimili con i club ti porti gli onori e gli oneri mentalmente che prendi con i club e quindi appunto è naturale che adesso l'Italia si sta risollevando in attesa che comunque altri giocatori escano e che altri giocatori si sviluppino comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre impressioni vi ricordo dalle 21 in live sul canale con il mio amico Niccolò Lattuada aspetto i vostri commenti vi mando un bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi ciao